Ancora buone notizie dal bollettino epidemiologico emesso dalla regione Puglia che ha riportato che mercoledì 22 luglio sono stati registrati 2421 test per l'infezione da coronavirus e non sono stati registrati casi positivi, non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 221.331 test, 3.952 sono i pazienti guariti e scende a 56 il numero dei casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi covid in Puglia è di 4.456, 1.171 solo nella provincia di Foggia. Il comune di Lucera, la regione Puglia con l'assessorato all'industria turistica e l'assessorato al bilancio Teatro Pubblico Pugliese e Puglia Promozione in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti e il Conservatorio Umberto Giordano di Foggia hanno presentato il calendario di appuntamenti della rassegna teatrale che si terrà nei mesi di agosto e settembre all'Anfiteatro di Lucera con la direzione artistica di Fabrizio Gifuni e di Natalia Di Iorio. Il programma degli eventi prevede il 12 agosto rievocazione storica cura di APS 5 porte storiche di Lucera, il 13 agosto torneo delle chiavi, 22 agosto concerto del quartetto di saxofoni, 26 agosto Antonio Stornaiolo ed Emilio Soffrizzi in Il Cotto e il Crudo, 29 agosto reading con l'attore Gianmarco Saurino, 2 settembre secondo Federico spettacolo a cura della Compagnia del Sole, 5 settembre con Luca Zingaretti nella Sirena, 10 settembre orchestra di 24 archi del Conservatorio di Foggia, 12 settembre Compagnia Orsini e Massimo Popolizio nella caduta di Troia. In programma anche un concerto musicale all'alba con la partecipazione del maestro Mario Rucci. Alla presentazione degli eventi che si è svolta presso l'Anfiteatro di Lucera sono intervenuti l'assessore alla cultura Carolina Favilla, il vice sindaco Fabrizio Abbate, il presidente del teatro pubblico pugliese Giuseppe Durso, l'assessore regionale al bilancio Raffaele Piemontese, il direttore dell'Accademia di Belle Arti, Pietro Di Terlizzi e il direttore del Conservatorio Giordano di Foggia, Francesco Montaruli. Magnifico, un 2020 che è stato un po' particolare, c'è stato questo problema che sembra risolto ma ancora vivo. L'università, quali sono stati i danni subiti, come vi siete attrezzati, ecco facciamo un po' quello che è il risultato di questi tre mesi che vi ha visti anche interessati. Allora è stata un'emergenza sanitaria che è diventata anche prestissimo un'emergenza educativa, come sappiamo le scuole e le università sono state chiuse, abbiamo fatto didattica a distanza che è comunque una didattica di qualità, fatta bene ma non può sostituire la presenza. L'esperienza della formazione universitaria è anche un'esperienza fatta tra i banchi, di relazione tra docenti e studenti, tra studenti e studenti, anche questi sono momenti formativi importanti. Noi speriamo da settembre di poter riprendere, magari con degli apprendimenti, avendo imparato ad utilizzare meglio anche le tecnologie dell'istruzione per riuscire a fare una didattica che sia ibrida, cioè che sfrutti il meglio delle tecnologie in presenza e di quelle a distanza. È stato un periodo duro ma speriamo di aver imparato qualcosa. Sono ricominciati gli appuntamenti in cremeria letteraria presidio del libro di Lucera, ospite della serata in piazza Duomo, Anna Maria Battista, insegnante in pensione, autrice della raccolta di liriche e la mia vita in versi. Il racconto di tutta una vita attraverso ricordi e sentimenti. Ha introdotto l'incontro la professoressa Adelia Mazzeo. È intervenuto il giornalista Silvio Di Pasqua. La serata è stata accompagnata dalla musica di Letizia Mansueto. Il volume si compone di 31 poesie che saltano sentimenti, emozioni e stati d'animo dell'autrice Anna Maria Battista. Le liriche sono dedicate ai familiari, ai luoghi e alle persone amate, ma non mancano componimenti che contengono situazioni, ambienti e personaggi di fantasia. Le poesie sono accompagnate da disegni di Rossella Cacchione e offrono al lettore un'immagine dettagliata dei protagonisti delle liriche. Il volume si conclude con due poesie dedicate alla bellezza e a Dio che testimoniano l'attaccamento dell'autrice alla fede.